C'era anche Santa Maria, segretario provinciale dell'Udc di Benevento, questa mattina a Napoli con Pier Ferdinando Casini, leader dell'Udc, e si è schierato in maniera inequivocabile con Stefano Caldoro Casini, evidenziando dunque la frattura che si è venuta a creare nel partito dopo la scelta di Demita di correre con De Luca. In questi anni, in cui c'è stato un grande degrado politico anche qui in Campania a Napoli, Caldoro ha rappresentato con decoro l'istituzione regione e ha fatto un lavoro pieno di serietà e buonsenso. Questo è quanto dichiarato da Pier Ferdinando Casini parlando di Stefano Caldoro. Mi auguro dunque che Caldoro possa continuare il suo mandato, ha proseguito. Alla politica e al mezzogiorno servono persone credibili, serie per bene, persone che sappiano rappresentare con decoro le istituzioni. Una visione che secondo Santa Maria rafforza le scelte dell'Udc Sannita di non presentare liste per le elezioni regionali. E' la testimonianza che la parte più rappresentativa e consistente dell'Udc Campano è rimasta coerentemente al fianco di Caldoro. Mi auguro che questo, i cittadini, lo sappiano riconoscere, allo stesso modo in cui mi auguro che sappiano riconoscere chi, in modo trasformistico, ha formato le proprie liste e la propria coalizione.